Siamo nell'era della connessione. Stabiliamo connessioni per viaggiare, per lavorare, per divertirci. Siamo connessi con le persone, con le macchine, con le cose e con l'universo. Cambium Networks, fin dalla sua apparizione nel mercato, ha scelto come missione quella di creare e mettere a disposizione di tutti le migliori tecnologie abilitanti per realizzare un solo obiettivo centrale. Quello di connettere. Nata nel 2011 come spin-off di Motorola, un nome storico della comunicazione, Cambium Networks, partendo dalle tecnologie di trasmissione point to point e point to multipoint, ha cominciato un qualificante percorso di ricerca e sviluppo, capace di traghettare l'azienda verso un'indiscussa leadership tecnologica che ha trovato il suo culmine in CN Medusa. Il top delle performance per il Fixed Wireless Broadband, basata su tecnologia Massive MUMIMO e a oggi un ulteriore ampiamento del mondo del networking con il Wi-Fi CN Pilot e la famiglia di switch CN Metrics, creando così una soluzione unified access di nuova concezione. Un'offerta complessiva per le nuove esigenze del Wi-Fi Enterprise, con funzionalità di fascia elevata, ma col miglior rapporto costo-prestazioni di oggi. Cambium Networks, attraverso il suo ecosistema di partner qualificati, il supporto tecnico competente ed efficace, la sua capacità di essere grande azienda globale, ma saper pensare ed agire localmente, permette a tutti gli attori della connettività wireless di operare nelle migliori condizioni possibili, tecniche ed economiche. La connessione, oggi, è l'abilitatore del business in un sempre più ampio numero di settori. Cambium Networks porta ovunque la connettività che serve, dove e quando serve, realizzando così quello che è il suo slogan e la sintesi della sua mission. Connect e Unconnected Un'offerta 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 Un'offerta